i residenti dicono che questo tizio è uno spacciatore che sta al primo piano buongiorno buonasera era buona lei è il primo piano si è salita e managgia ci può far entrare cortesemente ma chi è questo no perché ci hanno segnalato cosa sgradevole volevo che lei la smentisse ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere hanno detto giusto e sbagliato e si vede che ti è già salita è la borsa o come se lascia un like anche alla nuova pagina il bellini